Prima pagina, la giusta dose di notizie con Andrea Candelaresi. Ormai lo sappiamo, ma che nasconde comunque delle mire che sono poi globali. Ieri ha parlato Vladimir Putin e ha risposto Joe Biden. In tutto ciò c'era Giorgia Meloni che si era recata lì a Kiev tramite treno, ha incontrato Volodymyr Zelensky, ha visitato Bucha, la città degli errori, ce la ricordiamo, quella città dove furono trovate poi dopo la liberazione ucraina delle fosse comuni. Piene purtroppo di civili. Ebbene, Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina, lo ha ribadito affermando di voler rifornire Kiev di nuove armi e soprattutto di voler supportare Volodymyr Zelensky fino alla fine della guerra con aiuti umanitari, aiuti militari e molto molto altro. E dall'altra parte c'è Joe Biden. Joe Biden, lo sappiamo, l'altro ieri invece si è recato a sorpresa, o almeno così dico nei media, a Kiev, proprio abbracciando Volodymyr Zelensky in quella foto, simbolo che abbiamo commentato nella giornata di ieri. E, insomma, puntando il dito contro la Russia, perché è lo stesso Joe Biden, avrebbe affermato che questa non è solo una guerra tra Ucraina e Russia, ma questa è una guerra tra il mondo libero e il mondo dell'oppressione. Lo stesso Joe Biden, nelle sue parole, ha voluto metterci molto di globale, no? E non è mancata, come dicevamo, anche la risposta di Vladimir Putin, che ha rotto il silenzio, ha parlato di fronte ai più alti vertici della difesa, di fronte ai più alti vertici del Cremlino e in diretta nazionale. Vladimir Putin ha fatto due annunci importanti. Numero uno, che continuerà fino alla fine questa guerra, questa guerra che è stata iniziata dall'Occidente, è stata iniziata dall'Occidente con le sue provocazioni. Attenzione, una dichiarazione di Jan Stoltenberg, segretario generale della Nato, sembra dargli ragione. Lo stesso Stoltenberg, infatti, aveva affermato due giorni fa, durante la visita di Joe Biden, che la guerra è iniziata nel 2014 anche per la Nato, quando ha iniziato ad addestrare i militari ucraini. E, seconda cosa importante, detta da Vladimir Putin, l'accordo New Start verrà sospeso, attenzione, non dismesso del tutto, verrà sospeso temporaneamente. Cos'è l'accordo New Start? È un accordo che è stato firmato e aggiornato lo scorso anno tra Joe Biden e Vladimir Putin, prima dell'inizio dell'invasione russa ai danni dell'Ucraina. Un accordo che riguarda gli armamenti nucleari. Bene, ci sarà un tetto massimo, o meglio, ci doveva essere un tetto massimo di produzione di armi belliche a detonazione nucleare, sia per la Russia sia per gli Stati Uniti. Adesso Vladimir Putin, appunto, sospendendo questo patto, può produrre più armi nucleari e può renderle, ovviamente, anche attive. È una minaccia per l'Occidente oppure sta bleffando? Questa è la grande domanda della comunità internazionale e di tutti gli analisti di geopolitica. Bene, allora andiamo a vedere come reagiscono le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi a queste notizie veramente di caratura mondiale. Partiamo dal Corriere della Sera, che titola Putin-Biden sfida diretta. Come dicevamo, no, sì, guerra in Ucraina, un conflitto locale che riguarda Russia ed Ucraina, ma un conflitto che sempre di più, ormai lo sappiamo, ha una caratura globale, uno scontro quasi frontale a questo punto tra Stati Uniti e Russia. Spesso si parla di guerra per procura, sono termini forti, però effettivamente ci sono molti interessi da parte dei grandi leader mondiali. Sappiamo che anche Xi Jinping, per esempio, ha proposto ben 21 punti per la pace tra Russia ed Ucraina, proponendosi da mediatore e non solo, ha firmato un nuovo accordo di partner radiato strategico proprio con la Russia. Quindi, insomma, parlare di logica dei blocchi forse non è poi così obsoleto anche nei giorni nostri. E poi la Repubblica, Putin-Biden, parole armate, appunto, si diventano più gravi, no? I toni del discorso diventano più aggressive le dichiarazioni da una parte e dall'altra. Insomma, Biden che parla di mondo libero contro mondo dell'oppressione, no? Quasi una guerra valoriale la sua, mentre Vladimir Putin, insomma, ritira un accordo fondamentale, poi punta il dito contro l'Occidente per questa guerra. Tra l'altro, aggiungendo qualche parolina in più sul discorso di Vladimir Putin, insomma, il leader del Cremlino, si sarebbe schierato a fianco del popolo ucraino. Lui stesso avrebbe detto, noi non ce l'abbiamo con il popolo ucraino, ma con il governo di Kiev che essenzialmente fa quello che gli dice l'Occidente e che sta subendo un'oppressione dall'Occidente. Si parla, come al solito, anche di denazificazione dell'Ucraina. Sono parole che abbiamo imparato a conoscere ormai dal 24 febbraio scorso, data dell'inizio dell'invasione russa. No, siamo quasi ad un anno dal conflitto e effettivamente la dialettica di Vladimir Putin non è cambiata in meglio, anzi forse si è esacerbata. Continuiamo con Libero. La Melonia Kiev, l'Italia non scappa. Il Premier incontra Zelensky. Per la pace dobbiamo combattere la lotta ucraina. Mi ricordo il nostro risorgimento. Siamo con voi. Putin risponde con le minacce e si torna alle atomiche. Quindi Libero pone più l'accento sull'incontro tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky. Giorgia Meloni che dopo la chiamata con Biden ha deciso di partire alla volta di Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky. Un incontro marginale per la comunità internazionale, ma un incontro fondamentale per l'Unione Europea, ma soprattutto per l'Italia. Perché ci ricordiamo due settimane fa circa Volodymyr Zelensky è volato a Bruxelles per incontrare tutti i membri del Parlamento Europeo e anche il Consiglio d'Europa. Ebbene, Volodymyr Zelensky ha iniziato a parlare di tutte quelle nazioni che avevano fornito pieno sostegno all'Ucraina e l'Italia è sembrata essere una di quelle nazioni, uno di quegli stati che è rimasto un po' a margine del discorso di Zelensky. Non solo, Emmanuel Macron aveva invitato il presidente ucraino per un bilaterale informale, stato criticato da gran parte dell'Unione Europea poiché i patti erano differenti. Cioè Zelensky bisogna incontrarlo tutti insieme. Le critiche più feroci sono arrivate proprio da Giorgia Meloni, ma la ferocia di queste critiche essenzialmente hanno fatto emergere anche una sorta di isolamento da parte di Giorgia Meloni nei confronti dell'Unione Europea, ma anche viceversa, cioè l'Unione Europea nei confronti di Giorgia Meloni. Ebbene, con questo viaggio a Kiev, con questo incontro bilaterale a questo punto con Volodymyr Zelensky, l'Italia torna al centro degli aiuti per Kiev, quindi sicuramente una rivoluzione nell'immagine dell'Italia appunto a livello internazionale. Poi il giornale, missione italiana, Zelensky sbaglia bersaglio, la Meloni incontra il leader ucraino, appoggio senza tentennamenti, ma il numero uno di Kiev polemizza sulle parole del Cavaliere. Ecco, Volodymyr Zelensky ha chiesto a Giorgia Meloni perché Silvio Berlusconi, a più riprese, abbia fatto uscire delle dichiarazioni quasi filoputiniane. Ovviamente Giorgia Meloni si è schierata apertamente dalla parte dell'Ucraina, però vedere che all'interno della maggioranza c'è chi la pensa differentemente non può che imbarazzare il governo della Meloni. E poi Berlusconi sceglie il silenzio e spera ancora nella pace, quindi Berlusconi non risponde, questa volta Volodymyr Zelensky si spera nella pace, o almeno questo è quello che dice il giornale. Il fatto quotidiano, Zelensky umilia Meloni insultando Berlusconi, vedete la lettura totalmente differente del fatto quotidiano che falleva invece sulle parole di Zelensky, descrivendo quelle dichiarazioni del presidente ucraino come una vera e propria umiliazione per Giorgia Meloni, un'umiliazione che non leggiamo né sul giornale né sul Libero, dove invece si pone l'accento sull'Italia che non scappa. E poi la verità, il giornale del Papa fa verde la quaresima, l'offensiva green sfonda anche in Vaticano, si parla di tutte quelle novità green che riguardano appunto il Vaticano, anche all'interno della Santa Sede si inizia a parlare di una rivoluzione green, di una rivoluzione contro il climate change. La Meloni a Kiev, ad aprile ricostruzione, questi buoni auspici di Giorgia Meloni, nel senso la guerra secondo la Premier italiana finirà a breve, entro aprile, ad aprile si inizierà la ricostruzione, la ricostruzione che porterà l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, l'Ucraina all'interno del Patto Atlantico, un'Ucraina che finalmente raggiungerà quell'occidentalizzazione che sta cercando dal 2014, questa è l'idea di Giorgia Meloni, effettivamente poi bisogna vedere se sul campo sarà così. E poi il governatore Visco è indagato a Brescia, questa è un'altra questione relativa ai governatori lombardi, il messaggero, la ricostruzione dopo gli orrori, con una foto di Giorgia Meloni in visita a Buccia, come dicevamo la città degli orrori, insomma si punta poi a ricostruire in Ucraina tutto ciò che è stato distrutto da questo conflitto. Poi il domani Zelensky gela la visita di Meloni attaccando l'alleato Berlusconi, quindi anche il domani pone l'accento sulla critica che Volodymyr Zelensky avrebbe rivolto a Giorgia Meloni, ovviamente sulle parole del Cavaliere, parole che fanno male alla maggioranza in questo caso, quando si parla appunto di intrecci internazionale, poi promesse di crescita e armi nucleari, pilastri della guerra fredda di Putin, quindi Vladimir Putin che adotta un sistema comunicativo, lo stesso poi dal 24 febbraio ad oggi, volto a compattare il fronte interno e a far venire qualche dubbio ai nemici, al fronte esterno. Il sole 24 ore, super bonus e villette, addio anticipato, governo, compensazioni in due tempi, si parla di super bonus, quindi si parla dell'addio appunto al super bonus, però con alcune compensazioni volte a non far fallire migliaia di aziende che ovviamente col super bonus erano nate. Poi Meloni su Kiev, l'Italia non tentina, quindi anche il sole 24 ore parla dell'audacia di Giorgia Meloni nel andare appunto a Kiev ad incontrare Volodymyr Zelensky. Due visioni a confronto dunque sulle prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi, sull'incontro tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, c'è chi parla di umiliazione del governo Meloni per le parole che Volodymyr Zelensky avrebbe pronunciato a proposito di Silvio Berlusconi, c'è chi parla invece di un'Italia che rappresenta un punto fermo nel sistema di aiuti umanitari e militari all'Ucraina, un'Italia che adesso anche a livello comunicativo si presenta come una delle nazioni, come uno degli stati più importanti in questo sistema di aiuti. E poi ovviamente sullo sfondo, ma io lo porrei in primo piano, lo scontro tutto globale tra Vladimir Putin e Joe Biden, scontro di dichiarazioni che però fa passare Vladimir Putin anche ai fatti, uscendo temporaneamente dall'accordo New Start. Allora queste le notizie principali di oggi, adesso voltiamo pagina e parliamo di cyberbullismo. Lo facciamo con l'avvocato Matteo Santini. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati. Bentrovato a lei. Parliamo di un tema che purtroppo è poco raccontato, ma che è sempre più invadente nelle vite dei più giovani, degli adolescenti, di chi vive la scuola oggi. Andiamo con ordine. Perché il cyberbullismo può rovinare la vita di molti studenti e di molte studentesse? Allora, il cyberbullismo è un fenomeno particolarmente importante e serio perché i ragazzi, soprattutto quelli più giovani, più piccoli, non si rendono conto del disvalore non soltanto sociale, ma anche giuridico degli atti che commettono. Mi spiego. I bambini, ma anche i ragazzi, gli adolescenti, ritengono che quello che sia vietato nel mondo reale in realtà poi venga ammesso, ritenuto lecito, se compiuto a mezzo Internet. Quindi non si rendono conto che una minaccia è una minaccia sia se avviene su Internet, sia se avviene per strada. Anzi, nella maggior parte dei casi, i reati diventano ancora più gravi se sono commessi tramite Internet perché sono reati che si diffondono molto più velocemente, che interessano più persone. Pensate a una diffamazione. Uno insulta, diffama una persona, per strada ascoltano le persone presenti, quindi due, tre, cinque presenti. Se lo faccio all'interno dei social, quante persone vengono a conoscenza di questa diffamazione? Centinaia, migliaia, decine di migliaia. E quindi capite che questo rappresenta già di per sé una circostanza gravante del reato. E le conseguenze sono non soltanto più gravi, ma anche più difficili da eliminare, perché poi tutto quello che viene inserito in rete rimane. Ed è sempre una corsa della polizia postale, delle autorità inquirente, andare a cercare questi siti Internet dove queste informazioni sono diffuse per cercare di bloccarle. E questo perché la tecnologia è molto più veloce del diritto, quindi per quanto noi possiamo intervenire, queste notizie si diffondono a macchia d'olio e rapidamente. Ecco, a proposito, quali sono le leggi attuali per combattere il cyberbullismo? Il sistema legislativo italiano si sta aggiornando in maniera adeguata, l'Unione Europea sta cercando di porre un argine al cyberbullismo, insomma, a livello legislativo e giudiziario. Come si sta agendo? Allora, le leggi esistono. Ricordiamoci che, ad esempio, il bullismo di per sé non è un reato, è un fenomeno che contiene all'interno una serie di comportamenti che possono poi rappresentare un reato. Quindi, il bullo o il cyberbullo che commette una minaccia, il reato è il reato di minaccia. Un bullo che commette un reato di diffamazione, il reato resta quello di diffamazione. Il reato di per sé non è il bullismo. Però ci sono dei reati specifici che nascono proprio dall'attività illecita che viene compiuta su internet. Pensiamo al cosiddetto revenge porn, quindi alla diffusione a fini di ricatto, estorsione di materiale pornografico riferito a una persona. Sono tutti comportamenti estremamente gravi, tipizzati per i quali la nostra società, soprattutto nell'ultimo periodo, sta facendo anche un'opera di grande prevenzione. Pensate all'attività di informazione, un'educazione che viene fatta nelle scuole. Nelle scuole quasi giornalmente, in tutta Italia, gli alunni, i ragazzi, vengono sensibilizzati al problema con convegni, corsi, conferenze. C'è un aumento di sensibilità di fronte a questo. Ma nonostante ciò, ci sono queste ricerche molto serie che hanno evidenziato un aumento addirittura del 20%, nonostante se ne parli tutti i giorni dei casi di bullismo. Un aumento del 20% sottolineando che nella maggior parte dei casi ad essere vittime sono le ragazze. Questo è anche un dato molto particolare. Uno si aspetta che il bullo sia un ragazzo, quindi una persona di sesso maschile, e non sempre è così. La cultura dell'educazione e della prevenzione è l'arma più efficace. Perché? Perché noi parliamo tanto di maltrattamenti anche sulle donne, sulle categorie più deboli, di femminicidi, ma tutto parte dal bullismo. Quindi un fenomeno non trattato, un bullo non trattato, un caso di bullismo non risolto, probabilmente poi diventerà un problema di violenza nei confronti di una donna, violenza nei confronti di un anziano, violenza nei confronti di un disabile. E quindi poi da adulto la persona andrà ad affrontare problemi più gravi. Problemi più gravi per se stesso, problemi più gravi per la vittima e per la comunità che si dovrà occupare di punirlo e di recuperarlo. Assolutamente. In questo, diceva bene lei, avvocato, è importante la prevenzione. Quindi sarebbe importante magari anche fare prevenzione direttamente nelle scuole, magari con dei corsi ad hoc contro il cyberbullismo, oppure ci sono degli incontri che magari si effettuano appunto nelle scuole per sensibilizzare su questo tema. Ecco, in questo la scuola ancora è carente, secondo lei? Allora, sì, la scuola è carente perché tutte queste iniziative di solito sono iniziative che partono dall'istituto scolastico ma non sono istituzionalizzate. Cioè la scuola magari chiama l'associazione di turno oppure il magistrato, l'avvocato che viene a fare una lezione nella scuola. Ma quello che si dovrebbe fare è istituzionalizzare, ad esempio, una materia come esiste nell'educazione civica che si occupi in modo specifico del corretto utilizzo di internet. Quindi diritto di internet, diritto dell'informatica. E quando si parla di diritto non necessariamente dobbiamo riferirci a concetti elaborati che presuppongono comunque una cultura giuridica perché si può parlare di diritto e di diritti anche dei bambini di sei anni, di dieci anni. Quindi istituzionalizzare una materia oppure inserire determinati argomenti anche nell'ambito dell'educazione civica e questo in parte viene fatto approfondendo e soprattutto concentrandosi sul fenomeno dell'utilizzo di internet perché l'utilizzo corretto di internet non è una circostanza riferita soltanto al cyberbullismo. È una circostanza che riguarda il 90% dell'attività che giornalmente i ragazzi compiono. Quindi non si tratta solo di cyberbullismo si tratta di difesa da eventuali atteggiamenti sbagliati da parte di terzi pensate anche alle truffe ai furti di identità quindi imparare non soltanto come comportarsi correttamente ma anche come difendersi per cui ricordiamoci che sono due mondi paralleli il mondo reale e il mondo virtuale non possiamo insegnare ai nostri ragazzi come ci si comporta nel mondo reale quando poi non si sanno comportare nel mondo virtuale che è il mondo che frequentano il 60-70% della giornata perché i ragazzi diciamo a 15-16-17 anni su 13-14 ore che sono svegli mediamente sono connessi 7 ore quindi pensiamo che le altre ore vanno a scuola quindi in pratica stanno quasi sempre connessi e questi sono dei dati veramente inquietanti la media sono 6-7 ore insomma sono dati eclatanti poi si potrebbe fare un discorso più ampio anche sul perché si utilizza così tanto il cellulare tra le nuove generazioni però in generale è importante sensibilizzare sul corretto utilizzo di internet non solo per quanto tempo ci si passa sopra ma anche perché in rete è molto più difficile controllare anche i contenuti che passano e a cui sono esposti anche molti minorenni insomma ci sono tanti social media su cui questo controllo non è così serrato faccio riferimento ad esempio a TikTok faccio riferimento anche a Telegram che lo possiamo considerare tranquillamente tra i social media di comunicazione ebbene bisogna agire anche su queste grandi piattaforme però la legge deve essere più forte di queste aziende che di fatto poi sono dei privato per quanto siano dei colossi allora il problema di questi social media social forum è che spesso hanno sede all'estero lei ha citato TikTok anche lo stesso Facebook Instagram che sono negli Stati Uniti mentre TikTok è cinese quindi a livello repressivo è difficile fare qualche cosa perché il responsabile il legale rappresentante si trova all'estero poi è vero che ci sono anche dei referenti nelle singole nazioni ma quando la sede legale si trova all'estero è molto più difficile intervenire anche a livello repressivo quello che si può fare certamente è prevedere dei limiti specifici che già ci sono comunque in Italia per l'utilizzo di questi social forum e questo da chi può essere fatto? questo può essere fatto unicamente dai genitori da chi esercita la responsabilità genitoriale perché ricordiamoci che comunque fino a 14 anni intanto il minore non è imputabile quindi se commette reati non è imputabile ma da un punto di vista civilistico rispondono i genitori quindi per l'uso non corretto di questi social media social forum rispondono anche a livello civile anche se vengono commessi dei danni rispondono i genitori ma il danno più grosso è il danno che i minori possono subire accedendo a delle immagini che sinceramente sono agghiaccianti perché è vero che vengono messi dei limiti per quanto riguarda la pubblicazione di determinati contenuti ad esempio sfondo sessuale ma ad esempio non ci sono limiti per quello che riguarda il linguaggio quindi si entra su TikTok e sono all'ordine del giorno bestemmie o episodi di violenza nei confronti degli animali cioè situazioni che sinceramente sono anche più gravi del sesso e delle scene diciamo sessualmente esplicite alle quali comunque i minori sono avvezzi perché comunque nel mondo anche reale sono sempre più vicini a quelli che sono gli aspetti della sessualità del sesso cioè abbiamo una sovraesposizione mediatica pensate a livello pubblicitario ma insomma anche a livello di social senza entrare poi nei dettagli perché ripeto sono vietate le scene di nudo ma si può anche essere sessualmente espliciti senza mostrare in modo chiaro delle nudità quindi insomma su questo non c'è dubbio ma a parte il discorso della nudità del sesso io credo che basta collegarsi a un profilo TikTok di un nostro figlio insomma di un nostro nipote per vedere a quali contenuti ahimè questi bambini anche di 12 anni possono accedere e quindi chiedersi quello che può essere il trauma per il bambino ma anche il rischio del comportamento emulativo perché non soltanto spettatori di questi social ma siamo anche protagonisti quindi diventiamo anche produttori perché possiamo fare le dirette perché possiamo pubblicare quindi il social è importante proprio per questo assolutamente perché poi magari imitandoli appunto si dà vita anche a questo sistema di emulazione che poi non fa altro che far diventare moda un qualcosa che è sbagliato che può essere deleterio per la salute mentale di tantissimi giovani per concludere e per sottolineare la gravità del cyberbullismo e soprattutto dei contenuti gravi che circolano in rete c'è un esempio purtroppo tragico in Italia di come il cyberbullismo abbia influito pesantemente nella vita di una famiglia guardi ce ne sono tantissimi addirittura molti casi di ikikomori che è un fenomeno nato in Giappone dove molti ragazzi si ritirano completamente dalla vita sociale si chiudono nelle proprie stanze e stanno perennemente connessi su internet quella è una vera e propria forma di dipendenza ma anche casi molto gravi anche conosciuti nella cronica di istigazione al suicidio quindi di persone che sono state istigate a suicidarsi attraverso i social sia mediante dei giochi che prevedevano situazioni sempre più pericolose che poi hanno portato alla morte di questi ragazzi di questi bambini e questo veramente inquietante ma anche episodi di cyberbullismo dove la persona veniva così tanto sminuita diffamata e denigrata e le veniva proprio consigliato di suicidarsi quindi dopo un po' di tempo queste persone che già sono psicologicamente fragili nel momento in cui cadono in queste reti diventano ancora più fragili fino a quando non si sgretolano completamente e poi commettono questo atto estremo ecco questo per far capire che è un fenomeno che può riguardare tutti noi è un fenomeno che va combattuto collettivamente e con la giusta attenzione grazie all'avvocato Matteo Santini per avercelo ricordato buona giornata e buon lavoro grazie a voi arrivederci e questo era l'ultimo tassello di conoscenza per oggi appuntamento come sempre a domani un saluto da Andrea Candelaresi prima pagina la giusta dose di notizie con Andrea Candelaresi grazie a tutti